Sono trascorsi pochi giorni da quando Mario Cusitore ha ripreso posto nel parterre di Uomini e Donne dopo una breve assenza. Alcuni attenti fan però in queste ore si sono accorti di un inaspettato riavvicinamento che c'è stato tra il Cavaliere e Cristina Tenuta. Lorenzo Pugnaloni infatti è stato avvisato dai suoi follower che il 45enne e l'ex dama hanno ripreso a seguirsi su Instagram dopo qualche mese di gelo. Il 3 dicembre scorso Mario è tornato a Uomini e Donne e si è subito rimesso in gioco avviando una conoscenza con Prasanna. Nelle ultime ore però sui social network si sta parlando molto di un gesto che il Cavaliere ha fatto nei confronti di un ex dama con la quale ha flirtato un po' l'estate scorsa. Una segnalazione che è arrivata a Lorenzo Pugnaloni dopo la registrazione del 4 dicembre infatti racconta Mario e Cristina si seguono nuovamente su Instagram ma lei non è fuori dal programma. Il blogger ha confermato questo scambio di follow tra il 45enne e Tenuta e l'ha commentato con queste parole tutto insensato. D'altronde cosa ci si può aspettare non capisco. Lei sinceramente chi segue il dating show ricorderà che i due si erano scritti sui social durante le vacanze si erano accordati per vedersi a Roma ma alla fine lui ha rinunciato perché pensava ancora a Ida. La frequentazione tra Mario e Cristina dunque non è mai decollata per diversi motivi e dopo un confronto in studio entrambi avevano anche smesso di seguirsi su IG per non dare adito a ulteriori chiacchiere. In un'altra storia che si può trovare sul profilo Instagram di Pugnaloni c'è il messaggio di una fan che ha cercato di fare una previsione su quello che potrebbe accadere nelle prossime registrazioni. Facile Cristina scenderà le scale per Mario e tornerà nel programma. Questi sono giochini che abbiamo già visto. Ha scritto una follower dopo aver saputo del riavvicinamento social tra accusitore e Tenuta. Il blogger ha concordato con chi spera che la redazione di uomini e donne non permetta ai due di frequentarsi davanti alle telecamere. Poi ha lanciato una frecciatina al cavaliere aggiungendo per lui è una costante cercare chi è fuori non è la prima volta. Ognuno nella vita ha ciò che si merita. Ha concluso il ragazzo menzionando anche lo strano comportamento dell'ex dama. Cristina manca dagli studi di uomini e donne da più di un mese. Lei assieme ad Aurora e ad Armando è uscita di scena attorno a fine ottobre per motivi che non sono mai stati resi noti. Da una registrazione all'altra infatti alcuni veterani sono spariti dal parterre e nessuno li ha più menzionati. In rete si dice che la redazione avrebbe voluto rinnovare il cast allontanando i personaggi che non instauravano conoscenze interessanti ma su questo non ci sono ancora conferme.